E' l'altro appartamento dove troviamo... Buongiorno Tristezza! Eh vado a riacciare! No, va meglio! Cos'è che dici? Sì, no, niente! Va molto meglio! Sì! Ah, ti sta vedendo alla tv? No, no, no! Quella è la telecamera! Risposta, si! Ah, la telecamera! Ma il franco è già altro che porta giù! Si, 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 l'ho già dato anche io la roba! Soro Ottavio, una battuta freddo così in questa qui che... Beh, una leggerissima sgarbellata dai! Proprio sgarbellata! Poi poi lei ha detto... Ho telefonato ad essere mia moglie! Fa che cosa vuoi! Quando ero pirla... Mi capitava a tutti! Beh, va bene, va bene! Mi capitava a tutti!